Italo Bucchino, siamo arrivati al limite o siamo noi giornalisti che facciamo in effetti troppo gossip? Io ho l'impressione che un po' la sinistra stia sbagliando gli obiettivi, un po' i giornalisti per sostituirsi alla carenza della sinistra politica si attaccano a qualsiasi cosa accade. Allora, io quello che ho notato all'inizio della stagione, finite le ferie estive, è che i sondaggi danno il governo in ottima salute, la maggioranza in ottima salute, i fratelli d'Italia in ottima salute e Giorgia Meloni in ottima salute. Significa che tutta questa roba che ha raccontato Giannini non gliene frega niente a nessuno. Cioè gli italiani votano la Meloni e confermano il voto alla Meloni. Quindi non doveva dimettersi San Giuliano, ha sbagliato? No, quello è un fatto privato diverso, se vogliamo arrivare al caso San Giuliano. L'Istat ha comunicato ieri, non so se Giannini se ne è accorto, che per la prima volta nella storia d'Italia è stato superato il numero di 24 milioni di occupati. Il PIL è in crescita, l'occupazione è in crescita, le cose vanno bene in Italia e gli italiani capiscono. Dopodiché la Sista si attacca un giorno all'urlatore della scala, un giorno a Ilaria Salis che va in giro per l'Europa a far casini, un giorno si attacca a Boccia, cioè adesso si attacca a Boccia per cercare di far danno al governo. Parliamo di Maria Rosaria Boccia. Maria Rosaria Boccia, che cos'è? Che esempio è? Perché Maria Rosaria Boccia deve essere invitata alle trasmissioni televisive? Che esempio è? Quello era un fatto privato, San Giuliano ha commesso probabilmente superficialità in un fatto privato, le questioni pubbliche... Senza ricadute pubbliche. Se posso parlare con l'altro tu, io poi dopo mi contesti tutto. Ci sono due questioni pubbliche lì. Una questione pubblica riguardano i soldi dello Stato. San Giuliano ha dimostrato e dimostrerà anche nell'inchiesta... Tanto è indagato, ricordiamolo, dalla procura di Roma... A sua tutela dopo una denuncia. Perpeculato. È indagato perché la comunicazione gli viene data a sua tutela, perché possa preparare le carte per difendersi, come prevede la nostra normativa. E dimostrerà che ha pagato tutto di tasca sua. E quindi il problema dei soldi pubblici non c'è. C'è stato un errore a valutare l'ipotesi di una consulenza alla signora Boccia, che si definisce dottoressa, ma ho letto oggi un articolo sulla verità, non si capisce perché le università che cita dicono che non si è laureata lì. E quindi questo dimostra tutto sulla persona. Gli uffici hanno detto che il curriculum non era adeguato, hanno bloccato quella nomina. È successo un pandemonio perché? Perché i giornalisti ritengono che queste questioni sono più importanti del record storico dell'occupazione. Quindi San Giuliano si è dimesso per fare un favore ai giornalisti. San Giuliano si è dimesso perché è stato colpito da un sistema giornalistico che lo voleva colpire perché è andato a toccare i soldi dei circuiti della sinistra, del cinema. Ha tirato fuori 258 film finanziati dallo Stato e mai usciti in sala. Allora adesso Corrado... Grazie. Grazie.